Siamo nel cuore della mitologia ellenistica del Mediterraneo e poi questo a dedica barba blu, che comunque è una fiaba, una fiaba che naturalmente incute timore e tutto quanto, però allo stesso tempo ci spinge ad aprire quelle porte che non dovremmo aprire. Quindi cerchiamo di aprire un po' di porte affacciate alle nostre coscienze, al nostro inconscio e anche un po' al nostro desiderio. Uno, due, tre, Trinacria, uno, due, tre, Gio, Gioia e passa per l'uomo vivo di Scicli e poi dopo va a finire fino all'Etna, è un rapporto che passa per il mare, i naufragati, ci sono veramente tanti brani che si sono originati in questa terra, appunto dicevo l'uomo vivo, la santissima dei naufragati, la marcia del Camposanto, la madonna delle conchiglie, sono tante tante canzoni. Grazie. 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 Grazie.